La Francia torna sullo scontro con Roma andato in scena ieri. Il presidente francese Macron snobba Salvini. Il premier è Conte, l'ho già incontrato. Intanto Di Maio non c'è l'Itema, Macron è un avversario politico. Penso che in questo momento storico ci sia tutto il diritto di portare avanti delle campagne giuste a livello europeo con altre forze politiche sui temi che per esempio interessano una regione come questa, come l'Abruzzo. Stiamo parlando di lavoro, stiamo parlando di diritti sociali, stiamo parlando di scuole, trasporti, stiamo parlando di sanità. Non è solo un tema di una regione o di una nazione, è un tema che riguarda tutta l'Europa. E ho voluto precisare con questa lettera alle mondo che come in Italia ci sono delle esigenze, anche nel resto d'Europa ci sono tanti paesi che hanno difficoltà sugli stessi temi. E queste difficoltà vengono interpretate da alcune forze politiche. Ora, se siamo in un'Europa senza confini, i confini che non ci sono, quindi il fatto che non ci siano confini, non deve valere soltanto per la libera circolazione delle merci e delle persone, ma anche per la libera circolazione delle forze politiche che si accordano in ottica europea. Ma il governo italiano si sta arrabbiando col governo francese, secondo lei? No, noi siamo zen, assolutamente. Se il governo francese si sta arrabbiando con quello italiano, io credo che sia inopportuno. Anche perché in questo momento è importante capire che in tutta Europa i cittadini non ne possono più dell'austerity, non ne possono più di una serie di politiche non espansive che stiamo pagando. Guardate che anche le previsioni catastrofiche sul PIL in ogni caso si basano su un fondamento. Sono anni che si va avanti con politiche contro i cittadini, con politiche di austerity, che in questa regione hanno fatto decine di migliaia di vittime, tra disoccupati, inoccupati, persone che hanno difficoltà ad andare avanti. In una regione come l'Abruzzo si sono ridotti gli investimenti in maniera notevole perché si continuava a fare tagli su tagli su tagli. Allora, chi non vuole vedere i popoli europei che non ne possono più e che chiedono ai loro governanti più diritti e più capacità di acquisto, faccia pure. Ma qui non c'è nessun conflitto dal punto di vista dei governi. Anzi, noi siamo sempre disponibili e saremo sempre disponibili a lavorare con il governo francese su tutte le questioni che interessano l'Italia e la Francia, ma anche tutta l'Unione Europea. Il Premier Conte e il Ministro Toninelli presenti alla demolizione del Moncone, del ponte Morandi. La demolizione del ponte è il riscatto di Genova, della Liguria e dell'Italia, così dichiarato Giuseppe Conte. Ci eravamo impegnati perché questa operazione e la ricostruzione avvenisse entro la fine del 2019. Per averlo transitabile dovremmo aspettare i primi mesi del 2020. Per Toninelli si tratta invece dell'immagine di rilancio del nostro paese. Nel frattempo è iniziata l'udienza dell'incidente probatorio nell'ambito delle indagini sul crollo del ponte. Andiamo avanti, ci spostiamo ora in Europa e in Asia dove stanno aumentando i casi di morbillo. Il record mai così tanti casi in dieci anni ovviamente aumenta anche la preoccupazione. Dagli Stati Uniti alle Filippine passando per l'Europa, il morbillo non dà tregua con focolai ed epidemie che preoccupano a tutte le latitudini. Dopo lo stato di emergenza proclamato nello stato di Washington nei giorni scorsi e l'ufficio europeo dell'OMS a lanciare l'allarme e anche dal paese asiatico arrivano notizie preoccupanti. Nelle 2018 ha affermato l'OMS nei 53 paesi della regione europea, che comprende oltre all'Europa tutti i paesi dell'est, inclusa la Russia, ci sono stati oltre 82.000 casi di morbillo, il numero più alto del decennio, con 72 morti. La cifra è tre volte rispetto a quella del 2017 e 15 volte quella del 2016, l'anno delle record negativo. Nei paesi che registrano i casi che portano al ricovero, continua il documento, il 61% dei pazienti ha avuto bisogno del soggiorno in ospedale. L'aumento, sottolineano gli esperti dell'OMS, è avvenuto nonostante nelle 2017 si sia raggiunta la più alta copertura vaccinale mai registrata per la seconda dose, circa il 90%. Ed ora torniamo in regione con il maxi sequestro avvenuto tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, ben 300.000 ettolitri di vino della cantina Rauscedo rimangono sigillati nei rispettivi magazzini. A stabilirlo il Tribunale di Pordenone nell'ambito dell'inchiesta sui presunti falsi vini DOP e IGP. Ancora una scossa per Rauscedo e la comune di San Giorgio della Richinvelda. In data odierna il GIP del Tribunale di Pordenone, in accoglimento alla richiesta di sequestro avanzata dalla Procura della Repubblica sulla base delle evidenze investigative emerse, ha emesso un decreto di sequestro preventivo a carico della cantina di Rauscedo e che riguarda tutti i vini prodotti DOP, IGP e varietali provenienti dalla trasformazione delle uve della vendemmia 2018. Il decreto è stato eseguito dagli uomini del Nassil Nucleo Antisofisticazione di Udine e dall'ispettorato Repressione Frodi del capoluogo friulano. Ha riguardato ben 300.000 ettolitri di vino detenuti nei vari depositi della cantina, dislocati tra Friuli e Veneto, in parte già commercializzati. Si tratta di una quantità enorme, pare oltre 30 milioni di bottiglie di vino, vini che non costituiscono un pericolo per la salute dei consumatori e le bottiglie infatti non verranno analizzate, ma può sussistere la frode in quanto il prodotto è diverso da quanto dichiarato in etichetta. L'inchiesta era partita a fine gennaio con una cinquantina di perquisizioni in sei diverse regioni italiane. Gli accertamenti, aveva spiegato la Procura, erano volti ad acquisire elementi di prova relativi a presunti comportamenti fraudolenti per vini che sono stati ottenuti con uve prodotte ben oltre i limiti massimi di resa e con una gradazione naturale delle uve inferiore ai valori previsti dai relativi disciplinari. La battaglia ora si sposterà in tribunale con le difese delle aziende interessate, con in testa l'Avvocato Cassini che tutela la cantina Rauscedo, i quali sicuramente ricorreranno contro la decisione del GIP per evitare un declassamento dei prodotti. Ed ora dalla cantina Rauscedo parliamo del gruppo Kipre, proprietario dei marchi Principe Principe e Kings ha confermato che provvederà regolarmente al pagamento degli stipendi dei lavoratori degli stabilimenti di San Daniele del Friuli, Trieste, Parma e Vicenza. La decisione è stata adottata in seguito al miglioramento del clima di rapporti industriali. Il gruppo di proprietà della famiglia Ducevic aveva scelto di attendere i provvedimenti giudiziali prima di avviare il confronto con le parti sociali, ma in seguito ai primi incontri che si sono tenuti con le rappresentanze sindacali nel corso della settimana, il clima di rapporti industriali ha segnato un netto miglioramento. Le parti si sono confrontate sui temi di maggiore interesse e rilievo per i lavoratori, stabilendo metodo e tempi di un prossimo confronto sulle fasi del piano di generale e sull'immediato impatto su livello occupazionale. In particolare per il sito di Sandor Ligo della Valle le parti hanno concordato l'attivazione di un tavolo di confronto con i rappresentanti delle istituzioni territoriali. Cresce il numero delle organizzazioni no profit in Friuli Venezia Giulia che conta 10.500 realtà. A dire il rapporto 2018 del terzo settore in Friuli Venezia Giulia è presentato stamane a Udine. Dal 2011 a oggi l'incremento di organismi senza fini di lucro è stato pari al 35%, portando in Friuli tra le regioni con la maggiore incidenza rispetto alla popolazione. Il mondo no profit impegna 168.916 volontari e da lavoro ad oltre 18.200 occupati, pari al 3% degli occupati complessivi con un aumento in 5 anni di 71 lavoratori ogni 100. ed oggi a Udine l'assessore regionale dell'autonomia e locali per Paolo Roberti che ha presentato il programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza. Un programma che stanzia oltre 33 milioni di euro nell'arco del triennio a partire dall'anno in corso. La prima novità sicuramente è quella delle risorse stanziate. Noi andiamo a chiudere un 2018 lasciato in eredità dalla precedente amministrazione che chiudeva circa 2 milioni di euro. Noi invece oggi parliamo di un programma sicurezza che vale 4 milioni e 400 mila euro a cui si aggiungono altri 3 milioni e mezzo di euro per un fondo che andrà destinato a tutti i comuni e ulteriori 600 mila euro che vanno ai capoluoghi di provincia per programmi specifici con istituti di vigilanza e steward urbani a presidio del territorio. Tutto questo va ancora in aggiunta agli ulteriori 6 milioni e mezzo di euro che avevamo concertato a dicembre con i comuni nella fase di concertazione e che servono nel triennio per l'installazione di nuovi impianti di videosorveglianza sul territorio. Nessuno verrà escluso. L'obiettivo del fondo era proprio quello di dare una risposta a tutti i comuni del Friuli Venezia Giulia a prescindere dalla presenza o meno del corpo di polizia locale. E con quei 3 milioni e mezzo di euro che tra l'altro verranno suddivisi con una quota fissa proprio per garantire anche il piccolo comune di avere uno stanziamento si dà risposta proprio a tutti, a comuni che fino ad oggi negli ultimi dieci anni non avevano ricevuto un centesimo sul settore sicurezza e che magari avevano anche qualche unità di personale della polizia locale ma quel personale non riuscivano nemmeno a fornire l'auto di servizio. Sì la legge 9 andrà completamente purtroppo superata perché svuotata negli ultimi anni negli stessi principi fondamentali. Basti pensare che il rapporto che ovviamente è un rapporto magari anche già superato nel tempo visto che i tempi sono cambiati di un operatore di polizia locale ogni mila abitanti è stato semplicemente cancellato dalla norma perché è ritenuto non gradito evidentemente all'epoca. Insomma bisognerà ripensare completamente il comparto della sicurezza e il concetto di sicurezza in Friuli Venezia Giulia e questo sicuramente sarà una grande occasione per noi. Una donna scomparsa è ritrovata in stato di ipotermia e bene tre furti nella notte nella stessa zona. Questi sono solo due dei fatti di cronaca che vi proponiamo nelle nostre Flash News. Questa mattina il comando dei vigili del fuoco di Pordenone è intervenuto per la ricerca di una signora classe 49 allontanatasi da casa ieri sera a piedi e non più rincasata. Sul posto per lustrare la zona la squadra dei vigili del fuoco di San Vito mentre la sala operativa di Pordenone ha allertato il gruppo di topografia applicata al soccorso, il reparto volo di Venezia, i cinofili, i droni e il personale volontario della protezione civile. Poco dopo la signora è stata ritrovata nei pressi di una siepe all'estremità della proprietà privata di un'abitazione vicina alla sua in stato di ipotermia. Sul posto anche il sindaco di Chionzi, carabinieri di Azzano X e il personale sanitario. Tre furti in abitazione a Sacile nella notte. Il primo avvenuto presso l'agriturismo, la Pioppa, mentre i proprietari dormivano al piano superiore, i ladri si sono introdotti forzando una finestra e rubando 850 euro in contanti. 300 euro in portafogli sono invece stati rubati poco distante a un 66enne, sempre presente al piano superiore della casa in cui i ladri si sono introdotti rimuovendo una grata e praticando un foro su un serramento. Analoga esperienza per un 62enne di strada Camolli 12 che ha subito solo un tentativo di furto. In questo caso i ladri hanno tentato di entrare rimuovendo una maniglia e rompendo il blocco della serratura. È intervenuta l'aliquota radiomobile di Sacile. Aveva già diviso per lo smercio in varie stecchette i suoi 25 grammi di hashish ma è stato scoperto dai carabinieri nel corso di una perquisizione nell'abitazione. Si tratta di un operaio di 24 anni di Tolmezzo denunciato in stato di libertà per possesso di droga ai fini di spaccio. Ferito gravemente nella tarda serata di giovedì il conducente di uno scooter a Pozzuolo. L'incidente e uno scontro con un altro veicolo si è verificato all'intersezione tra via Lumignacco e via Tomba. L'uomo ha rimediato una serie di ferite per le quali è stato portato in codice rosso al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia. I mezzi sono stati posti sotto sequestro. Sul posto oltre al personale sanitario i carabinieri della stazione di Mortegliano. E ora parliamo del mercato delle auto. Un mercato in discesa. La seconda parte del 2018 ha visto un calo del 3% e gennaio peggiora ulteriormente la statistica meno il 6,7%. A pesare l'incertezza dei consumatori che non sanno se scegliere benzina, diesel o ibrido ma anche le scelte del governo. Oggi la presentazione ufficiale dei dati. Il mercato auto in discesa nel 2018, 1.200 immatricolazioni in meno. Il trend è negativo anche per il primo mese del 2019. Allora diciamo che innanzitutto il mercato dell'auto già dopo i primi mesi dell'anno scorso è cominciato diciamo a scendere. Scendere di qualche punto percentuale che però non si sono letti questi dati in quanto noi concessionari ci siamo immatricolati le auto, le famosi chilometri zero con degli incentivi particolari e anche per sostenere il mercato che tutte le case automobilistiche in Italia dovevano anche perché si erano dati degli obiettivi eccetera. Ma da settembre, da dopo le ferie praticamente, abbiamo avuto un drastico calo delle immatricolazioni con delle punte anche oltre il 10%. Stime che potrebbero riguardare un 5% complessivo nel 2019. Come mai questo calo? Come lo state giustificando? Allora innanzitutto direi che c'è poca chiarezza. Il nostro cliente, l'utente della strada non ha chiaro quello che conviene comprare. Le scelte del governo e anche quelle che sono le notizie che arrivano dall'Unione Europea riguardo agli sconti benzina, come stanno condizionando il vostro mercato? Ma guardi, il governo forse non ha capito, e mi permetto di dirlo non per far polemica ma semplicemente per ammettere che non ha capito qual è il vero problema dell'inquinamento. Non dimentichiamoci che in Italia e anche in Friuli Venezia Giulia il 44% delle auto che circolano, quindi del parco circolante, ha più di 10 anni. E quindi le auto da sostenere per dare un contributo ai cittadini per la sostituzione sono proprio quelle. Diminuisce il mercato delle auto ma non il mercato dei tatuaggi. E in regione infatti è boom perché negli ultimi 10 anni le imprese di tatuaggi di piercing sono aumentate addirittura del 1036%. La maggior parte degli studi si trovano proprio a Udine. Ormai sono molto di più che una moda, i tatuaggi sono diventati un vero e proprio must have e secondo l'ultima elaborazione dell'ufficio studi di confartigionato imprese di Udine la nostra regione sta al passo delle richieste. I dati Union Camere testimoniano infatti che in Friuli Venezia Giulia negli ultimi 10 anni le imprese di tatuaggi e piercing sono aumentate del 1036%. Su 125 imprese attive in regione a fine 2018 ben 110 sono nate dopo il 2009 e 15 tra il 2000 e il 2009. Le attività artigiane sono 109, quasi 9 su 10, guidate quasi in ugual misura da uomini e donne. I titolari maschi sono il 54%, le femmine il 46%. Si tratta generalmente di tatuatori di giovane età, tant'è che il 31% ha meno di 30 anni mentre gli altri hanno tra i 31 e i 40 anni. Ma ad essere le più giovani sono le donne, bene il 76,1% hanno meno di 40 anni, dato che si scontra con il corrispondente 60% dei maschi. A tenere le redine è proprio la provincia di Udine che ospita complessivamente la metà degli studi di tatuaggi e piercing, 70 in tutto, seguita da Pordenone con 39 attività e da Trieste con 17, mentre Gorizia al fanalino di coda ne ospita 15. A scegliere i comuni capoluogo per le loro attività sono il 41,1% delle attività, il 100% nell'area di Trieste. Tanta scelta dunque tra i diversi artisti, tutti caratterizzati da una mano e da un tratto diversi, ma attenzione a rivolgersi esclusivamente a tatuatori, professionisti abilitati e regolarmente iscritti agli albi per prevenire qualsiasi rischio a carico della salute. Diamanti come investimento a seguito del fallimento della società Intermarket Diamond Business si complica la situazione per molti risparmiatori anche nel territorio regionale. Il Consiglio degli esperti è di attivarsi il più velocemente possibile per tutelarsi. Per depositare le domande di ammissione al fallimento c'è tempo fino all'8 marzo. Monica Nardini. Recentemente abbiamo avuto il caso di persone che avevano acquistato dei diamanti tramite il canale bancario. Il bubone è scoppiato proprio recentemente perché a fine gennaio è fallita la società IDB, che era la società che vendeva i diamanti tramite i canali bancari. Quindi ora faccio un appello a tutti i friulani che dovessero avere diamanti acquistati con queste modalità di attivarsi nel modo più veloce possibile perché dovranno chiedere la restituzione delle pietre qualora non fossero in loro possesso e dovranno attivarsi per recuperare gli importi dalle banche che hanno collaborato la vendita di questi diamanti. Inoltre dovranno anche insinuarsi nel fallimento della IDB presso il Tribunale di Milano. I tempi sono stretti perché i termini scadono a inizio marzo, mi sembra l'8 marzo. Questa è un'ipotesi in cui le pietre fossero ancora custodite presso la sede della IDB. Quindi dovrebbero chiedere alla curatella del fallimento la restituzione delle pietre di loro proprietà. Adesso i primissimi passi riepilogando che possono fare le persone coinvolte da questo crack quali sono? Il consiglio è quello di rivolgersi alle associazioni dei consumatori, in particolare alla Casa del Consumatore che si occupa di queste vertenze o rivolgersi a degli avvocati per ottenere la tutela migliore perché a questo punto la situazione è molto delicata e quindi bisogna agire correttamente con i tempi e le modalità previste dalla legge. La soluzione che io caldeggio, perché a questo punto dal fallimento difficilmente si riuscirà a recuperare qualcosa, è rivolgersi alla banca che ha collaborato nella vendita di questi diamanti e chiedere alla banca la restituzione dell'importo di acquisto dei diamanti. Questa della truffa dei diamanti, siccome ha avuto origine nella regione Emilia Romagna e poi si è stesa la Lombardia e la Toscana, sembrava non aver toccato il Friuli. In realtà sono centinaia i friulani che hanno acquistato questi diamanti come forma di investimenti perché così sollecitati e consigliati dai propri istituti di credito. Un progetto per riqualificare la Tresemane, l'asseviario di fondamentale importanza per il territorio di quattro comuni. Dopo averlo presentato inutilmente a Luti e rispondendo ad un bando che non ha visto vincitori, il gruppo giovani di Commercio non vuole che l'idea rimanga carta straccia. Allora sentiamo l'intervista. Avendo visto il territorio attraversato dalla Tresemane, avendo ascoltato gli stakeholders, gli abitanti, gli utenti della strada e degli spazi commerciali, gli imprenditori che abbiamo intervistato, abbiamo costruito un progetto che parte dalle loro esigenze, quelle del territorio, per dare una risposta a un po' di problemi in maniera molto semplice, con degli interventi forse piccoli, forse non di grande impatto, ma che insieme riescono a dare una risposta sia sociale, territoriale e anche economica allo sviluppo dell'area. Il nostro è un gruppo multidisciplinare e abbiamo diversi pianificatori territoriali proprio per dare delle risposte ai comuni, con degli interventi molto piccoli che si possono fare sui piani regolatori esistenti, proprio per riuscire a modificare ad esempio dei vuoti urbani o degli spazi che sono non conclusi, degli spazi sui reti, ad esempio delle attività commerciali, piuttosto che di densificazione, abbiamo raccolto anche delle esigenze degli imprenditori che davano delle richieste molto semplici che con delle piccole modifiche consentirebbero di migliorare l'area. Questo era un progetto che avevate presentato per un bando di concorso dell'UTI, che cosa è successo? La commissione esaminatrice in qualche modo avrà ritenuto, visto che abbiamo consegnato nel marzo dell'anno scorso, ed eravamo peraltro, abbiamo scoperto l'unico partecipante a questo concorso di idee, di non assegnare nessun premio. Abbiamo chiesto di avere un accesso agli ATI, adesso attendiamo che ci diano delle risposte e vedremo cosa hanno ritenuto e che cosa non era valido secondo loro delle nostre idee. Però questo è un progetto a cui credete molto? Sì, è un progetto che riteniamo non debba rimanere nel cassetto di un UTI e a maggior ragione se l'UTI non ci sarà più. Ed ora passiamo allo sport, si è appena concluso l'anticipo della ventitresima giornata di Serie A tra Chievo e Roma, ha vinto la Roma in gol, il Ciarawi, Dzeko e Kolarov. Andiamo avanti, sempre con lo sport, quest'oggi la presentazione di De Maio, di Sandro e Vilmot ha risposto alle varie domande della stampa il direttore generale Franco Collavino che ha parlato del momento che sta vivendo l'ambiente e anche della contestazione. Sentiamo. E' una contestazione questa che non tiene conto dei 24 anni consecutivi fatti in Serie A, dei risultati raggiunti nel lungo periodo. Si contesta una società inoperosa, si contesta una società non presente, si contesta una società che non realizza, però una società invece che crea valore, che è costantemente impegnabile, impegnata, che investe denaro, non può essere contestata. Quindi comprendiamo la delicatezza del momento, rispettiamo la scelta dei tifosi, però non la condividiamo. L'Udinese Calcio, lo ribadisco, è una società che è in Serie A da 24 anni consecutivi. Un primato questo, che hanno poche società, le due milanesi, Inter e Milan, le due romane, Roma e Lazio. Nessun'altra. Quello che posso dire al signor Sindaco Fontanini è che auguro a lui di poter rimanere in carica per 24 anni, magari consecutivi, magari prossimamente potrà anche cambiare la legge e rendere questo tecnicamente possibile e che possa rimanere in carica così a lungo da poter collaborare assieme e fare tante cose assieme. Magari cominciando anche dal primo impegno che abbiamo a breve scadenza, che è l'organizzazione congiunta di un campionato europeo, che è un impegno importantissimo, che però in questo momento non vedo una grande attività, un grande attivismo per sviluppare, fatta eccezione di quello che stiamo facendo noi come Udinese Calcio, per sviluppare una manifestazione che avrà delle grosse ricadute sia sulla città che sul territorio. Quindi cominciamo da lì, che è una grande situazione, un grande momento per poter far vedere le potenzialità dell'intera regione, della città e dell'intera regione in tutto il mondo. Per quanto riguarda invece l'allenamento dell'Udinese, questo è stato spostato quest'oggi al pomeriggio, a due giorni dalla gara contro il Torino, si è rivisto in campo per un allenamento individuale Valon Berami dopo il problema al flessore accusato due giorni fa. Quindi non è ancora ipotizzabile una sua presenza o meno contro il Torino, si dovrà aspettare domani per le valutazioni finali nell'allenamento di rifinitura. Valon Berami si è allenato a due giorni dalla gara contro il Torino, il capitano dopo il fastidio al flessore accusato due giorni fa si è rivisto in campo al Bruseschi per lavorare individualmente. Un segnale incoraggiante in vista della gara contro il Torino, perché seppur vero che lo Svizzero si è allenato in regime personalizzato e il match incombe, lo ha fatto con grande intensità, cimentandosi in esercitazioni con la palla e cambi di direzione, segnale che lo stop non fosse nulla di eccessivamente grave. Difficile comunque sbilanciarsi su una sua certa presenza in campo o dalla panchina, ma manca ancora allenamento di rifinitura di domattina e dunque nessuna ipotesi da scartare. Ciò che è certo è che lui non vuole mollare da grande combattente qual è. Oltretutto, già prima della gara contro l'Inter si era reso protagonista, seppur alle prese con una problematica non paragonabile, di un recupero in extremis dopo il colpo alla caviglia rimediato a sassuolo, riuscendo peraltro a giocare tutta la gara di San Siro. Con Berami sul campo del Bruseschi e anche Sandro, che dopo la prestazione di oggi ha lavorato a parte sul rettangolo verde, dopo aver vissuto ieri insieme alla squadra la parte tattica, osservando dall'esterno tutti i dettami di mister Nicola. Anche lui lavora per recuperare ed essere al top quanto prima, e però le sue prestissimo lo sarà. Il resto della squadra intanto ha lavorato questo pomeriggio ancora a porte chiuse, in una seduta prettamente tattica. Gruppo al completo, ad eccezioni del lungo dei genti, Badu e Barak, e dunque diverse soluzioni possibili per Nicola in ottica Torino, soprattutto se si sciogliessero le riserve sul recupero di Berami. E come abbiamo ricordato precedentemente, quest'oggi è stata una giornata di presentazioni in casa udinese, presentati De Maio, Vilmot e Sandro. De Maio tra l'altro già titolare contro la Fiorentina, si è soffermato sul significato che ha avuto per lui questa esperienza, oltre che sul momento della squadra, dicendosi fiducioso in vista della gara di Torino. Sentiamo. Sebastien, tu vieni presentato oggi, però hai già avuto modo di debuttare nell'ultima gara giocata all'udenese contro la Fiorentina. Ti chiedo allora, quali sono state le tue prime sensazioni, le tue prime impressioni al debutto con la maglia bianconera? No, positivo, positivo per quello che è stata la partita. La partita è interpretata bene da tutti i compagni. Abbiamo fatto quello che ci ha chiesto nel Messina tutta la settimana. E poi, quando fai le prestazioni così, ti dà la convinzione di poter farcela anche per altre partite. Che sensazioni hai avuto anche su quello che è la squadra? Perché si arrivava dopo un duro 4-0 di Genova, però avete dato subito e immediatamente una risposta eccezionale contro una squadra forte ed in forma come la Fiorentina e forse i punti, chi meritava di vincere era proprio l'udenese. Quindi da un punto di vista mentale è un chiaro segnale che siete tutti sul pezzo. È una dimostrazione che la squadra ha dei valori, soprattutto mentale. Dopo un capo che si era la secondaria, che a volte diventa difficile di rialzarsi, la squadra ce l'ha fatta. Ho fatto anche una grande partita, poi il campo ha deciso il pareggio, anche se meritavamo qualcosa in più, ma abbiamo incontrato comunque una squadra molto forte. La Fiorentina era la squadra più in forma all'inizio del nuovo anno. Quindi la squadra ha fatto quello che doveva fare. Che opportunità rappresenta per te l'udinese? Arrivi qui a portare esperienza e tanta conoscenza del calcio italiano, questo lo sappiamo tutti. Ma tu cosa ti aspetti da questa esperienza invece? Ma secondo me ho passato sei mesi un po' negativa a livello del campo, per scelte tecniche. Mi aspetto soprattutto che la squadra mostrano le sue qualità e poi io dico sicuramente dare una mano in tutto che sia dentro e fuori il campo. L'udinese vista contro la Fiorentina può sbloccarsi anche in trasferta e fare un bel risultato contro un'altra squadra forte come il Torino? Sicuramente che la partita contro la Fiorentina ha dato una convinzione di poter fare bene anche le altre partite e andare a Torino per giocarsela. E con le parole di De Maio chiudiamo la parte sportiva, andiamo a vedere quelli che sono i titoli dei giornali che troverete domani in edicola. A partire dalla prima pagina di La Verità che intitola dal PD a Forza Italia, dai giornali alle TV, tutti con Macron contro l'Italia. Renzi e compagni hanno addirittura messo la bandiera francese sul loro profilo. Twitter ufficiale continuano a profondersi in scuse, però ad aprire le ostilità come ammette Le Figaro è stato l'Eliseo e a differenza di quel che si scrive la stampa nostrana sono i cugini che potrebbero rimetterci dal punto di vista economico. Si parla anche del ponte di Genova, sgambettato in tribunale inizia la demolizione delle Morandi ma la traduzione dal tedesco di una perizia blocca la causa da mesi e rischia di allungare i tempi della ricostruzione in tante autostrade e chiude un anno di incassi record. Andiamo avanti con un'altra prima pagina, il foglio che scrive l'Italia anticasta spiegata dal re dei paparazzi, spasso per Roma, Corrino, Barillari, Trabuche, Ricordi, Attori e un funerale importante. Andiamo avanti, un'altra prima pagina, il giornale intitola l'intervista Salvini, Francia e Tasse, la versione di Berlusconi con Matteo Nessun Problema, il futuro è il centrodestra, i grillini adesso facciano un referendum sulla TAV. Ancora la prima pagina di Libero che intitola anche Tajani da segni di risveglio, Miracolo, Silvio è risorto. Forza Italia finalmente si decide ad appoggiare il referendum per cancellare il reddito di cittadinanza. Il successo è assicurato, coloro che riscuoterebbero il sussidio sono 5 milioni, quelli che finanziano sono invece 55 milioni. Ed è tutto per quanto riguarda le prime pagine, è tutto anche per quanto riguarda l'edizione notturna del nostro telegiornale. Come sempre grazie per averci seguito, una buona notte ma prima la cadde oggi di Guido Gomirato. L'8 febbraio del 1998 l'Udinese surclassa in casa il Lecce, ottiene una delle vittorie con punteggio più vistoso della sua militanza nella massima categoria. 6 a 0, una gara senza storie. Ad aprire le marcature ci fu un autogol di Ciprien, poi andarono a bersaglio con una doppietta ciascuno, Birov e Poggi. E infine, quando mancava un minuto alla fine, ebbe gloria anche Gianni Chedda, un giocatore sicuramente bravo, il perno del centrocampo, ma che non ha mai avuto feeling con il gol. Quel successo strameritato, successo largo, a dimostrazione che l'Udinese stava scoppiando di salute, consentì ai bianconeri di rinsaldare la terza posizione alle spalle del Juventus 44 punti, Inter 40 e l'Udinese di punti, ne aveva 37. A fine corsa queste posizioni rimarranno invariate.